Quattro lastre dipinte in epoca arcaica recuperate dalla Guardia di Finanza nel corso di un'operazione contro il mercato illecito delle opere d'arte sono state esposte durante la prima delle giornate europee dell'archeologia che si è svolta a Palazzo Patrizzi Clementi, sede operativa della sovrintendenza per l'Etruria Meridionale. La sovrintendente Margherita Eichberg ha annunciato la conclusione di un'operazione che ha portato al recupero, al restauro fino allo studio conoscitivo e infine alla restituzione dei capolavori sottratti anni fa dai noti scavatori clandestini. Un risultato possibile grazie all'indagine condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, culminata con il sequestro delle lastre a Cervetali nel 2019. I frammenti, all'epoca del recupero ricoperti di incrostrazioni e depositi inorganici, sono stati affidati alle cure del personale della sovrintendenza, che ha provveduto ad accertarne l'autenticità. È stato così possibile confermare che le lastre sono opere originali di epoca etrusco-arcaica da datare negli ultimi decenni del VI secolo a.C., il cui incalcolabile valore storico è accresciuto ulteriormente dalla loro sostanziale integrità. Fino ad oggi, infatti, lastre dipinte della stessa qualità e conservazione erano state rinvenute solo nel XIX secolo, quando le necropoli di Cervetali avevano restituito le serie di lastre note come Campana e Bocca Nera, oggi conservate rispettivamente a Parigi, a Louvre e a Londra, al British Museum.